Il vetro è uno dei classici della nostra gamma e trova applicazione nell'hospitality. La domanda che ci siamo fatti in Weaver Ducre è stata come potremo perfezionare il vetro senza modificarne la sua eleganza. Quindi la cosa epilogica che abbiamo potuto fare è stata quella di affidare la produzione a chi fa il vetro migliore al mondo. Il vetro nasce nel fuoco. Quando mio papà mi portava in fornace ero sempre affascinato nel vedere i maestri creare dal bolo, che è la massa di vetro incandescente, un prodotto meraviglioso e unico. La particolarità dei nostri vetri sta nella varietà dei processi e delle tecniche di lavorazione che si basano su centinaia di anni di esperienza e maestria. Perché la storia del vetro non è raccontata attraverso i libri, ma attraverso le mani. Durante il processo design abbiamo collaborato intensamente insieme sviluppando prove colore, prove materiali e prove di strati. Alla fine siamo riusciti a ottenere il risultato migliore, anzi i tre risultati migliori. L'elemento caratterizzante del prodotto vetro è che è un articolo soffiato a mano presso maestri, artigiani, vetrai e la caratteristica principale è che il prodotto è unico. Abbiamo unito il design belga e l'artigianato italiano. Il risultato è stato la perfetta armonia. Finale Grazie.